Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in prunita. La viabilità cittadina a Firenze per lavori chiusa via Cosimo il Vecchio da Viale Pieraccini all'ingresso del parcheggio di Villa delle Rose. Chiudiamo con i treni. Ricordiamo che per lavori la circolazione tra Pistoia e Montecatini Terme è sospesa fino al 31 agosto. Servizio garantito con corse bus. E per lavori sulla linea Faentina è sospesa fino al 1 settembre la circolazione tra Borgo, San Lorenzo e Faenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!